Oggi è stata la mia prima volta su una bici da corsa e su una bici elettrica e ero un po' preoccupata ma in realtà è stato molto molto divertente, è stato anche emozionante perché comunque sono riuscita a fare cose che non sarei mai riuscita a fare se non avessi avuto a disposizione una bicicletta di questo tipo e io farò poi un reportage di quello che è stato oggi la mia giornata, sono una giornalista del Corriere della Sera vorrei ringraziare soprattutto tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa e il capitano del mio team Moreno Muser che mi ha sostenuto, mi ha dato dei consigli quindi è stato anche grazie a lui se sono riuscita a arrivare alla meta e credo che sia un'iniziativa molto interessante che ti permette anche di conoscere paesaggi incredibili e dimostra in che modo la mobilità sostenibile può permettere alle persone di spostarsi e di fare esperienze di questo tipo meravigliose e di fare esperienze di questo tipo meravigliose